E' arrivata una sconfitta Edoardo, giocavate contro una squadra di campioni e avete preso gol a freddo. Dal campo dove vi ha messo più in difficoltà l'Inter e cosa avreste dovuto fare diversamente secondo te? No, sicuramente sapevamo la forza dell'Inter, l'Inter è prima in classifica e sta giocando lo scudetto quindi sapevamo che oggi affrontavamo una squadra che voleva sicuramente vincere però noi siamo venuti qua per fare la nostra partita e cercare di portare via punti da questo campo. Purtroppo non siamo riusciti e prendere gol dopo un minuto a freddo è stata sicuramente una doccia fredda quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e pensare già alla prossima partita. Era già successo in Coppa Italia contro la Juventus, trasferta difficile e gol preso subito lì eravate riusciti a ribaltarla, a rimontarla, a raggiungere il pari, oggi invece è andata diversamente comunque sapevate che si poteva fare ma è arrivata una gara, una prestazione che da parte dell'Inter non è riuscita a portarvi al pari, a portarvi a recuperarla. No, nonostante abbiamo preso gol subito abbiamo cercato comunque di fare la partita e di cercare di ribaltarla purtroppo non ci siamo riusciti perché comunque davanti hai una squadra di campioni quindi non era sicuramente facile però potevamo magari stare più attenti in certe situazioni e magari essere più cattivi in altre. L'hai detto tu, l'Inter gioca con dei campioni là davanti, da difensore giocare contro una coppia come Lukaku e Lautaro quanto è difficile? Non è sicuramente facile perché sono due top del campionato quindi non era facile però è comunque sempre bello mettersi a confronto con giocatori del genere. Era sette partite che tra vittoria e pareggio riuscivate a portare a casa il risultato oggi vi siete fermati, in questo momento probabilmente c'è un po' di rabbia e amarezza ma che può servirvi per il vostro cammino. L'altra sconfitta che era arrivata sotto il corso del nuovo mister è quella con il sassuolo che poi aveva portato a grandi prestazioni. Sì, dispiace non aver continuato la serie positiva però noi abbiamo un obiettivo che è quello della salvezza quindi il nostro percorso non si ferma qua e continua già da mercoledì quindi dobbiamo pensare di fare il nostro percorso e di fare più punti possibili per arrivare al nostro obiettivo. Grazie Eduardo. Grazie.